Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria. Allora, allora, cari signori, quest'oggi si torna a parlare di carri armati francesi. Ne abbiamo già parlato qualche volta, ne abbiamo fatto alcuni brevi cenni, abbiamo spiegato alcune cose a proposito dei carri armati francesi, dei loro difetti, dei loro problemi, del loro errato impiego e perché la loro bontà tecnica non servì a nulla contro i pur inferiori carri tedeschi che però erano usati in maniera migliore. I francesi avevano eccellenti carri armati superiori ai carri armati tedeschi ma i tedeschi li sapevano usare meglio. Il simbolo della potenza militare, della potenza dei corazzati francesi è sicuramente questo, lo char de bataille B1 bis, il carro da battaglia o carro di rottura B1 bis. Questo è l'esemplare 4A denominato Verdun. La fonte è il primo volume della seconda guerra mondiale di Arrigo Petacco, opera datata perché risale a circa 40 anni fa, ma ricordatevi sempre una cosa, certe cose non invecchiano assolutamente perché anche a 40 anni di distanza lo char B1 bis è sempre quello. Il carro B1 bis, quando si parla di camion, di aerei, di navi eccetera eccetera, i dati non cambiano, le misure, i dati, le prestazioni non cambiano, sono sempre quelle. Quindi anche un'opera vecchia di 40 anni sicuramente non perde il suo valore quando parla di cose tecniche, quando ne fornisce dati, prestazioni, misure, pesi e quant'altro. Quindi, cari signori, questa sera parliamo del carro da battaglia B1 bis. È un mezzo che è nato addirittura nel 1920, come concezione risale addirittura al 1920. L'esercito francese, dopo l'esperienza della prima guerra mondiale, decise di mettere in servizio nuovi tipi di carro armato e il B1 bis nacque da una specifica risalente addirittura al 1920. Vide la luce nel 1930, ma occorreranno ancora sei anni di ricerche e modifiche perché il carro B acquisti la fisionomia e le caratteristiche del mezzo di serie. Il carro aveva uno scafo composto da parti in acciaio ricavate per fusione, imbullonate fra di loro, sopra una struttura, uno scheletro di Longueron. Era un mezzo che aveva prestazioni tutto sommato soddisfacenti perché praticamente aveva il motore a benzina Renault da 300 cavalli, spingeva il mezzo a 29 km orari e aveva un'autonomia di 200 km e aveva un eccellente armamento perché aveva un obice corto da 75 mm, un cannone da 47 mm in torretta e due mitragliatrici da 7,5 mm. Un mezzo moderno, un mezzo che aveva buone prestazioni e funzionava abbastanza bene. Il pezzo da 47 mm in torretta era un eccellente pezzo anticarro. L'obice corto da 76 mm montato nella parte anteriore dello scafo, eccolo qua indicato dal mio ditone, eccolo qui, era uno dei cannoni più potenti montati sui carri armati europei all'epoca. Ma il problema era che questo armamento potentissimo era fissato in casa matta e per puntarlo in brandeggio occorreva ruotare tutto il carro armato. Va bene. Allora, ripeto, il cannone da 47 mm in torretta in più aveva il difetto che poteva essere manovrato da un solo uomo, ovvero sia il capocarro. Il capocarro doveva dare disposizioni per la manovra del carro, valutare la situazione intorno ad esso, manovrare il cannone da 47 mm, caricarlo, mirare e spararci e spesso usare anche la mitragliatrice in torretta. Insomma, un disastro. Il capocarro del B1 bis era decisamente oberato di lavoro e non poteva fisicamente fare tutto. Troppe cose da fare per una persona sola, insomma, siamo sinceri. Peraltro lo Char B era dotato di alcune apparecchiature abbastanza sofisticate. Il dispositivo di brandeggio della torretta era elettrico. La strumentazione, contrariamente ai carri inglesi, era razionale ed efficiente e le sospensioni, anche se piuttosto complesse, funzionavano molto bene e permettevano al carro una buona stabilità. Tra l'altro il B1 era dotato di un dispositivo scacciafumo, costruito sul tipo di quelli usati nelle torri delle artiglierie navali che all'apertura dell'otturatore dell'arma, tra un colpo e l'altro, per evitare che all'atto dello sparo e al momento dell'apertura dell'otturatore dell'arma, la camera di combattimento si riempisse dei fumi e dei vapori dello sparo. I cingoli di aspetto di tipo avvolgente conferivano al mezzo l'aspetto dei carri armati della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale, ma gli consentivano anche un'ottima tenuta di marcia, specialmente su terreno accidentato e data la loro particolare conformazione, facilitavano moltissimo l'operazione di accesso e, in caso di emergenza, di rapida evacuazione da parte dell'equipaggio. Rendevano però la manutenzione del carro più complicata e ne aumentavano la vulnerabilità ai colpi sulle fiancate. Il motore era, ripeto, un Renault di tipo aeronautico, dalla potenza di 300 cavalli con accensione a magnete. Come ho già detto, l'armamento era di un cannone da 47 mm corto in torretta, l'obice corto da 75 mm in casa batta e due mitragliatrici da 7 e 5 mm. Il B1 bis, quello che vedete qua, durante le sanguinose prove della battaglia di Francia fu un osso, fu comunque sia un osso dannatamente duro da rodere per i carri tedeschi perché era quasi invulnerabile alla maggior parte degli anticarro tedeschi. Solo che, ripeto, come ho già detto più di una volta, mentre i tedeschi impiegavano in massa i loro mezzi, i francesi praticamente schieravano, si può dire, uno o al massimo due carri al chilometro. E vi lascio immaginare, anche se sei un carro, ripeto, il B1 bis era un carro dalle eccellenti prestazioni, era molto protetto, pressoché quasi invulnerabile a quasi tutti gli anticarro tedeschi. Solo il cannone da 88 o solo gli obici più grandi erano in grado di danneggiare. Lo stesso, basti dire una cosa, era un osso talmente tanto duro da rodere che, a quanto pare, almeno un esemplare di B1 attaccato dai tedeschi resistette a qualcosa come 40 colpi di cannone diretti e fu azzoppato solo grazie al fatto che un fortunatissimo colpo aveva fatto saltare una maglia dei cingoli. Cioè la particolare struttura dei cingoli era fatta in modo tale che riusciva a far rimbalzare i colpi che lo pigliavano frontalmente. Il progetto era buono, le caratteristiche erano buone, erano le dottrine di impiego ad essere profondamente sbagliate. E in più c'era il difetto, ripeto, che il capocarro in torretta doveva 1. comandare il mezzo, 2. valutare la situazione attorno, 3. armare, caricare e sparare e prendere la mira con il cannone da 47 mm ed eventualmente azionare la mitragliatrice per la difesa ravvicinata. Insomma, siamo sinceri, decisamente troppo lavoro per un uomo solo, uno dei principali difetti dei cari francesi. Tra l'altro il B1 è stato anche protagonista di uno degli episodi più noti della campagna di Francia. Praticamente uno, un B1, attaccò le linee tedesche, travolse tutto quello che poteva travolgere, arrivò a pochi passi dal generale Heinz Guderian, il comandante delle truppe corazzate che stavano invadendo la Francia. Guderian, come raccontano le sue memorie, fu costretto a mettersi a sparare personalmente con un anticarro contro il B1 bis che stava attaccando la sua postazione di comando. Per dire. Però, ripeto, la superiorità del mezzo era inficiata da alcune caratteristiche tecniche, ripeto, la trasmittente, la radio era mors e già questo qui è un bel casino. L'eccessivo carico di lavoro per il capocarro e due. Una certa fragilità posteriore del carro perché, mettiamola così, il bestione, il B1 aveva le chiappe piuttosto vulnerabili, detta com'è, perché c'era il radiatore del motore Renault sistemato male. Ma questo purtroppo succede. Però, ripeto, per i primi mesi, insomma, per la breve campagna di Francia, il B1 combatté disperatamente in condizioni terribili contro l'invincibile Panzerwaffe. Ci furono alcuni gloriosi episodi che videro i B1 dare tanto filo da torcere ai Panzer tedeschi, ma alla fine furono tutti travolti. Dopo l'armistizio, dopo la fine della guerra, il B1 fu valutato anche dal regio esercito, ma si trattava di un mezzo decisamente troppo costoso e troppo complicato per le caratteristiche del nostro esercito, che mancava di tecnici sufficientemente specializzati e che soprattutto non aveva benzina sufficiente per far muovere un bestione come il B1. Sì, perché il B1 era decisamente troppo costoso, neanche tanto troppo costoso da usare, era costoso da mantenere, perché era un mezzo che necessitava di una manutenzione continua e accurata e soprattutto il motore a benzina Renault da 300 cavalli andava a benzina avio, merce decisamente rara nell'Italia autarchica. Il B1 era un mezzo che pesava 32 tonnellate, era uno dei più grossi carriarmati della sua epoca. Era lungo sei metri e mezzo, largo 2 metri e mezzo, alto 2 metri e 82, con una corazzatura massima di ben 60 mm. Ripeto, il motore Renault da 300 cavalli lo spingeva fino a 29 km orari, con un'autonomia di circa 200 chilometri, ma doveva andare tutto bene, ricordiamoci. Portava 77 colpi da 75 mm, 50 da 47, 5100 da 7,5 per le mitragliatrici. Superava 2,70 di trincea, un metro e 10 di gradino superabile e una pendenza massima superabile di 40 gradi con 72 cm di quadro. Insomma, un mezzo ben fatto, ben costruito, ma che aveva gravi errori progettuali e soprattutto fu penalizzato da una dottrina operativa assolutamente non all'altezza. Insomma, cari signori, Charles de Bataille B1 bis, il gigante, il fragile gigante dai piedi d'argilla, che avrebbe potuto travolgere le Panzer Divisionen, ma che ahimè fu malamente sconfitto. Ripeto, i Panzer avevano dottrine e tattiche d'impiego decisamente migliori rispetto a quelle dei loro omologhi francesi. Niente da dire. Fu per questo motivo che, nonostante la loro superiorità tecnica, ripeto, i carri francesi furono malamente travolti durante la breve campagna di Francia, nonostante una feroce e disperata resistenza. Tutto qui. Quindi, cari signori, ripeto, carro da battaglia o carro di lottura B1 bis, il gigante dell'esercito francese, ma ahimè, un gigante decisamente usato male, un gigante con gravi difetti. Tutto qui. Quindi, cari signori, ripeto il solito invito, se avete qualcosa da aggiungere a quello che dico, non dovete far altro che commentare, commentare, commentare. Quindi aspetto le vostre considerazioni, come sempre, e di nuovo arrivederci al mio prossimo video. Ciao!